Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, appena finita la partita del Napoli contro la bassa Naunia, è finita per 17-0. Era sì contro la Naunia, squadra di promozione, però 17-0 comunque non è poco, anche se stiamo parlando di una squadra di promozione. La formazione iniziale è stata Sepe, Maggio, Maximovic, Chiriches e Goulam, a centrocampo Allan, Giorginho e Damsic e in avanti Insigne, Milik e Callejon. Quindi diciamo un po' tutti i gol. Quindi i 17 gol sono stati doppietta di Insigne, poi tripletta di Milik, 6 gol di Mertens, ragazzi. È entrato nel secondo tempo, letteralmente scatenato e ha fatto 6 gol in 30 minuti. E poi quando segnava, esultava come se... come avesse fatto un gol in campionato. Poi c'è stata la doppietta di Giaccherini e gol poi di Rog, Pavoletti e Maximovic. Quindi ragazzi, è finita 17-0. Poi nel secondo tempo è cambiata tutta la squadra e sono entrati Rafael, Maggio è rimasto in campo perché Isai è stato influenzato quindi non poteva giocare. Quindi poi sono entrati Albiol e Coulibaly, Strinic a centrocampo, Rog, Diavara e Zielinski e in attacco Mertens, Ounas e Giaccherini. Quindi ragazzi, davvero grande partita, lo stadio era tutto pieno. Ounas anche ha fatto molto bene nei 30 minuti che ha giocato, ha preso un palo e ha fatto un grande assist per un gol di Giaccherini. Poi Milik, che quindi si è capito che l'infortunio è una cosa passata. Mertens, oltre ai suoi 6 gol, tra cui molti di questi anche grandissimi gol, ha fatto anche un altro grande assist per il secondo gol di Giaccherini. Ragazzi, quindi come vi ricordo, io domani partirò per Di Maro, ora sono ancora a Casies, vedete lì il panorama davvero bellissimo. Oggi è stata davvero una bellissima giornata qui. Quindi ragazzi, domani mattina partirò per Di Maro. Davvero non vedo l'ora per vedere un po' le condizioni fisiche dei giocatori, gli allenamenti, quali sono i giocatori più in forma, quelli che sono un po' meno in forma. E quindi, come vi ho già detto ragazzi, da lì farò molti video. Quindi in questi giorni, mi raccomando, rimanete sintonizzati sul nostro canale. E poi vi ricordo che sarò anche a Trento, sabato sera, per l'amichevole Trento-Napoli. E in quella occasione farò la live reaction. Quindi ci vediamo domani a Di Maro. Ciao ragazzi, al prossimo video, sempre Forza Napoli!